Andiamo avanti con la gara e con un altro cantante, si chiama Giovanni Danieli e canta Non ho più domande. Buongiorno a tutti. 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 non ci vieni quindi fai invece una bella dichiarazione alle tue ragazze, guarda con i cartelli Giovanni sei non ci leggo fino a là sei il sole sei il mare quello che voglio dirti è che ho trovato in Calabria un'accoglienza strepitosa e loro devo dire siccome ho fatto un po' di serate anche in giro si hanno portato bene queste serate vediamo il tuo punteggio non mi sbagliavo 89 punti ciao Giovanni e andiamo avanti con quella che è la classifica finale allora Laura se vogliamo un attimino vedere quella che è la situazione partendo dal basso quindi stiamo per leggervi la classifica di tappa allora alternandoci Laura velocemente Roberto Esposito 50 Gianpaolo Bertuzzi 56 Lanfranco Garnacina 60 Alessandro Nino 64 Stefano Bozzetti 67 Stefano Pieroni 72 Danilo Amerio 73 Clio 74 Lele Gaudì 75 Lorenzo Zecchino 76 e un ex equo al secondo posto Gatto Panceri e Marcello Pieri a 77 punti e in cima in vetta in alto la classifica abbiamo Giovanni Danieli con non ho più domande con 89 punti ecco Miriam Fech grazie a tutti